Mi trovo qui dove inizierà, tra qualche ora, al massimo il processo del secolo. David, finalmente abbiamo il nostro regista. E gli occhi del mondo saranno puntati su Adolf Eichmann, il nazista. Cos'è che ha trasformato quest'uomo comune in una persona capace di mandare centinaia di migliaia di bambini alla morte, poi tornare a casa tutte le sere e dare un bacio della buonanotte ai suoi figli? Io non credo ai mostri, però sono convinto che gli uomini siano responsabili di azioni mostruose.